Tutti sanno quanto è accaduto in occasione dell'arrivo del nuovo anno in alcune vie cittadine di Taranto, in alcune zone della città di Taranto, altro che festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Parliamo di una Taranto messa a ferro e a fuoco da delinquenti, da criminali, da teppisti, fatti che purtroppo hanno posto Taranto all'attenzione della cronaca nazionale. Certamente io voglio stigmatizzare, voglio condannare in maniera dura, durissima, questi criminali. Occorrono pene esemplari, atroci nei loro confronti, senza nessuno sconto, pene drastiche, draconiane, per persone che non meriterebbero proprio di vivere, per persone che non meriterebbero proprio di esistere. Questa è la verità. Però devo anche stigmatizzare, lo devo dire, la superficialità da parte delle forze dell'ordine intese in senso lato come azione sinergica tra le forze di polizia, tra vigili urbani, tra polizia, tra carabinieri, tra guardia di finanza. Dico questo perché? Perché tutti sapevano e tutti sanno quello che accade in queste zone, in queste vie, a fine anno. I fatti della Salidella, i fatti dei Tamburi, i fatti di Via Petrarca, i fatti di Via Ecco non sono una novità, sono un fatto che sistematicamente si ripete. E allora veramente sarebbe stato necessario presidiare in modo militare quelle zone, in modo militare. E qui non venitemi a parlare di stato di polizia o quant'altro, di fascismo, assolutamente no. Qui si tratta soltanto di far rispettare la legge, di garantire la sicurezza, la pubblica incolumità al cittadino. Taranto per questi teppisti non si può presentare in uno stato di guerra, di guerra urbana. Pazzesco quello che è accaduto, pazzesco, pazzesco. Sembravano immagini del Medio Oriente. E allora io dico, voi forze di polizia, non sapevate che queste cose accadono e accadono da decenni? E cosa avete fatto per prevenire? Poco o nulla, poco o nulla. Lo devo dire, perché io non ho peli sulla lingua. Lì doveva essere, quelle zone dovevano essere presidiate, presidiate. ci volevano le camionette in quella zona. Perché quando accadono certi fatti, lo Stato si deve fare, deve essere presente. La legge deve essere presente. Le istituzioni devono essere presenti. E le istituzioni erano completamente assenti. Fermo restando la condanna gravissima, le pene drastiche che devono essere irrogate nei confronti di questi criminali. Ma devo dire che le forze di polizia, in senso lato, sono state molto superficiali, molto carenti, assolutamente inefficaci e inadeguati. E lo dico apertamente. Lo dico al comandante dei vigili urbani, anche lui ha le sue vicende, una richiesta di arresto. Allora al corpo di polizia municipale, al comandante della guardia di finanza, dei carabinieri, della polizia di Stato, massimo rispetto per il vostro impegno, che è tanto e lo riconosco. Ma in questo caso siete stati completamente inadeguati. Perché certe cose si sapevano, lo ripeto per l'ennesima volta, tutti lo sapevano, pure le pietre, quello che accade lì. E puntualmente non si fa nulla. Bene, queste cose dovevo dirle, perché queste immagini veramente mi indignano. Da un lato vediamo la bestialità di certe persone, dall'altro dobbiamo anche vedere l'inefficienza, scusatemi se lo dico, ma in questo caso specifico, lo devo dire, l'inefficienza delle forze di polizia.